Per quanto riguarda Nico, come già detto, con lui ho un grande rapporto, anche di dialogo quotidiano, quindi mi piace come ragazzo perché è un ragazzo vero e sincero, e ci siamo detti quello che ci dovevamo dire. Però questa è una vicenda ovviamente legata al mercato, che sappiamo che in questo momento è aperto ed è inconcepibile che ci sia un mercato aperto quando poi si giocano le partite. E quindi può destabilizzare ma non destabilizza nulla perché Nico in questo momento qua è una cosa personale tra lui e la società, che si stanno parlando e stanno cercando la soluzione migliore. Io ho un grande gruppo, un gruppo di ragazzi, di grandi professionisti che stanno pensando solo alla partita di domani e solo a scendere in campo domani per cercare di fare la partita nel miglior modo possibile. Quindi non siamo distratti da niente e da nessuno. Beh, è ovvio che è arrivato dopo, quindi aveva bisogno di un po' di adattamento. Era da un anno che comunque lavorava a parte, però anche lui ha portato grande professionalità, grande predisposizione al lavoro. Ha fatto tanti lavori anche extra, extra insomma allenamenti, che comunque è un grande professionista, perché ci tiene a rientrare il prima possibile e sinceramente l'ho visto bene. Quindi, insomma, potrebbe essere che domani parta dall'inizio.